bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi siamo nella settimana numero 4 delle sfide di fortnite ce n'è una particolare che ci chiede di ballare davanti a una telecamera entro 10 secondi dall'atterraggio a sabbie sudate dove si trova la telecamera beh ragazzi è semplicissimo si trova esattamente qua quindi come vedete siamo proprio nella parte alta di sabbie vediamo se riusciamo a vederla anche in questa partita ci stiamo atterrando siamo leggermente corti ma non dovrebbe essere difficile la riconoscete perché c'è il pavimento tutto brillante in realtà la stiamo già vedendo eccola qua davanti ragazzi sul pontile quindi basterà atterrare leggermente meglio anzi in realtà bisogna ballarci per 10 secondi davanti non dopo 10 secondi dall'atterraggio vi mettete qua davanti ragazzi e molto tranquillamente fate il vostro balletto preferito insomma ragazzi davvero semplice fare questa sfida vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi al canale ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao